E dopo Goldman Sachs, anche la banca francese Societe Generale ha deciso di emettere due bond a cedola accumulativa. A dire il vero è stata la stessa banca francese la prima ad aprire le porte con questa formula innovativa di investimento obbligazionario ai primi di giugno. Le obbligazioni a cedola accumulativa o di ferita sono strumenti di investimento obbligazionari e hanno la principale caratteristica, intuibile dal nome stesso, nel fatto che le cedole non sono pagate periodicamente ma sono pagate al rimborso. Tutte le attuali emissioni che io ho studiato per ora si caratterizzano per avere delle stesse caratteristiche. Prima di tutto sono a scadenza lunga o lunghissima, hanno poi la cedola che è determinata in modo fisso, quindi si tratta di un tasso fisso e inoltre sono tutte rimborsabili anticipatamente, cioè sono collable l'emittente ha previsto l'opzione, la facoltà durante l'anno in determinate ricorrenze di poter rimborsare l'intero valore dell'obbligazione più la o le cedole maturate fino a quel momento. Quindi un'obbligazione di questo tipo a 12 anni può essere rimborsata sia a scadenza che anche prima durante la sua vita. Però attenzione, in un periodo ben individuato che solitamente corrisponde al mese di emissione di ogni anno. Prima di vedere questi bond di Societe Generale andiamo però a vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa tipologia di strumenti. Sicuramente i vantaggi sono riassumibili in un rendimento elevato che è possibile ottenere su bond che hanno un rating alto. Quindi si riesce a raggiungere e superare anche il 6% di rendimento annuo lordo su prodotti che hanno rating buoni. elevati. Prendete ad esempio Goldman Sachs che ha un rating di BBB+, in base a quanto ha deciso Standards & Pulse e sempre la stessa Standards & Pulse ha attribuito una bella A a Societe Generale. Passiamo poi agli svantaggi. Ovviamente quello principale è anche la principale caratteristica di questi strumenti, ossia il fatto che la cedola viene pagata al rimborso, che farà storcere il naso agli investitori amanti delle obbligazioni e delle loro cedole. Psicologicamente la cedola infatti è un qualcosa che aiuta l'investitore a sopportare la volatilità dei mercati. In realtà l'investitore più acuto sa benissimo che è il rendimento che bisogna guardare e parte del rendimento è anche il rendimento cedolare. Secondo me il vero grande svantaggio è il fatto che io non posso far maturare quello che viene erroneamente chiamato interesse composto. Cioè io non posso far sì che il mio rendimento pagato sotto forma in questo caso di cedole, io possa reinvestirlo affinché a sua volta poi mi maturi un ulteriore rendimento. Quindi nel caso di queste obbligazioni si parla di interesse semplice perché le cedole pagate poi a scadenza sono esclusivamente calcolate sul capitale nominale, sul capitale di partenza. E non avendo io la disponibilità di quelle cedole anno per anno non potrò reinvestirlo. Ecco perché i rendimenti sono benemente molto alti per compensare questa mancanza. Difatti spesso accade che il tasso di rendimento effettivo netto a scadenza, quindi il TRES netto, è spesso molto basso su questi strumenti. Secondo me non è attirante alla realtà ma segnalo che i calcoli sono sballati dalle varie piattaforme. Terzo svantaggio è il fatto che la clausola di rimborsa anticipato ci compromette un po' la programmazione del nostro futuro finanziario. Quindi ci dà un certo livello di incertezza perché non sappiamo quando quel capitale ci rientrerà. Segnalo infine un'ultima cosa che devo approfondire, i costi sono obbligazioni strutturate o almeno vengono classificate come strutturate e da kid ho visto che emergono dei costi anche di ingresso in questi strumenti. Però mi pare strano che su uno strumento di risparmio amministrato ci siano dei costi di ingresso. Quindi mi riservo di approfondire e se effettivamente confermerò la presenza di questi costi farò un video di aggiornamento. Poi c'è tutto il discorso fiscale da scoprire come le banche gestiranno prodotti come questo. Perché? Come verrà trattato un prodotto come questo? Visto che la cedola si accumula, cosa mi permetterà di fare? Se io lo vendo prima della scadenza con tutte le cedole che fino a quel momento ho accumulato, posso compensare le minus sul profitto che realizzo? Oppure se aspetto la scadenza le cedole mi vengono pagate, compensano le minus oppure no? Secondo me si attua al regime classico, quindi procedendo con ordine. Se io compro quell'obbligazione sotto la pari, la differenza tra il prezzo che effettivamente ho pagato e il valore nominale sarà capital gain. Quindi quello compenserà le minus valenze. Viceversa invece le cedole, seppur siano differite, comunque sono considerate cedole. Pertanto redditi di capitale e quindi verranno sottoposte a normale tassazione e non potranno compensare le minus valenze. Tra l'altro si tratta di un titolo corporate, quindi si paga un bel 26%. Queste obbligazioni poi matureranno le cedole, le loro rate o di interesse. Quindi vedrete che tra qualche anno, se non verranno rimborsate prima, avranno un prezzo corso secco normale, diciamo in linea con le aspettative e con i rendimenti del mercato. E poi avranno un prezzo tal quel, spropositato, che già mi immagino chi l'ha comprata qualche anno, come rimarrà sorpreso quando, pensando ad investire 100, invece pagherà 130. Ora andiamo a vedere questi due bond di Societe Generale, però prima pausa sponsor. E sono ben due gli sponsor di questo video. Sono il pulsante mi piace e il pulsante iscriviti, che vi consiglio di premere entrambi, se contenuti come questo sono utili, e mi volete sostenere aiutandomi a produrre sempre video di qualità. Qualità bassissima ovviamente. Inoltre il mio è un canale indipendente, privo di qualsiasi conflitto di interessi. Se vi va di contribuire a garantire questa indipendenza, lo potete fare premendo il pulsante a forma di cuore che trovate qui sotto e sfruttando la funzione grazie di YouTube. Grazie a tutti voi e ora passiamo a i bond, ma su PC. Ok, rieccoci qui allora. I bond sono due. Uno con scadenza giugno 2035 e un altro con scadenza agosto 2038. La particolarità sta nel fatto che sono pressoché identici, varia solo il tasso fisso riconosciuto e la scadenza. Sono entrambi callable. Uno però è quello del 2038, rendo un 6,5, l'altro un 6. Secondo me tra i due quello che ha più senso è quello del 2038 perché con tre anni in più di scadenza, che non mi fanno tanto la differenza se sono disposto a vincolare il capitale fino al 2035, non mi cambia tenendo fino al 2038, mi becco comunque uno 0,5 in più. Quindi io rimango sull'analisi, rimango su questo. Allora, le caratteristiche le abbiamo viste. Come dicevo, è un tasso fisso che non viene pagato periodicamente, ma si accumula e viene pagato poi a scadenza, anzi al momento del rimborso. La durata dell'obbligazione qui è di circa 15 anni, di massimo 15 anni, dicono massimo perché la possibilità di rimborso anticipato, che ricorre all'agosto di ogni anno, permette all'emittente di poter rimborsare in qualsiasi anno, poter rimborsare l'intero debito. Quindi l'intero investimento non verrebbe liquidato col valore nominale più, al valore nominale, più le cedole maturate fino a quel momento. Se quindi io vado a, cioè vedo che l'emittente esercita il rimborso tra tre anni, quindi ad agosto del 2026, io riceverò il prezzo nominale, quindi 100, più tre anni di cedole, quindi un 6,5 per tre, cosa fa? Un 19,5% lordo pagato sempre al rimborso. Il rating è molto buono perché siamo su un A, quindi siamo su un rating più elevato rispetto a Goldman Sachs. Le caratteristiche poi principali stanno nel fatto che sono obbligazioni denominate in euro, qua riporta poi la cedola lorda che poi andrà a maturare nel ratio di interesse, e inoltre le date di rimborsa, di potenziale rimborso anticipato, quindi quando il società general potrà decidere di rimborsare. Nel momento in cui esercita il rimborso anticipato, il diritto di rimborso anticipato, 10 giorni lavorativi e avremo i soldi in conto corrente. Qua parla di protezione del capitale del 100% valore nominale a scadenza, in realtà, non so perché lo dicano, è insito nell'obbligazione che mi venga rimborsato il capitale a scadenza, però probabilmente vogliono, diciamo, convincere anche i meno preparati nel mondo delle obbligazioni. C'è una cosa da dire, il taglio è retail, cioè ogni lotto parte da almeno 1000 euro, quindi è un'obbligazione pensata per i retail. Tutta questa presentazione, infatti, è tipica di un prodotto retail, vuole convincere un pubblico ampio ad investire. Non c'è molto altro da dire. Concorso, vabbè, tipologia di negoziazione, il prezzo di negoziazione dell'obbligazione non tiene conto del rato di interesse cedola. Ovviamente, qua ci sta dicendo che il prezzo che noi vediamo quando cerchiamo, valutiamo se acquistare questo titolo, il prezzo di quotazione è il corso secco, ovviamente, concorso secco, quindi non tiene conto del rato della cedola o delle cedole che fino a quel momento sono maturate. Tenete conto che le cedole maturano con il sistema di calcolo 30-360, quindi ogni mese il prezzo tel quel terrà conto dell'interesse del mese precedente. Ok? Quindi questo è da considerare. Come dicevo prima, già mi aspetto persone che magari ignorantemente andranno ad investire, magari tra due o tre anni ancora queste obbligazioni ci saranno, ma avranno un prezzo tel quel più in alto di un 20% e quindi con piacevole sorpresa per i nuovi investitori. Che altro dire? Non c'è molto altro da dire. Poi qua ci riportano tutti i rischi. Devo dire che pagine come queste sono da apprezzare. Sono semplici, di facile comprensione, piacevoli graficamente, quindi complimenti a Società General perché fa il suo effetto. Valutate poi sempre il kid che andremo a vedere comunque poi, mi raccomando. I rischi a cui siamo soggetti ovviamente già li conosciamo. La protezione è valida sulla scadenza, cosa vuol dire che il capitale ci viene mostrato sulla scadenza, ma vita natural durante l'obbligazione segue le oscillazioni di mercato, quindi è soggetta alla classica volatilità di un qualsiasi titolo quotato. Il rischio d'emittente ci avvisano, ovviamente Società General ha un rating alto, ma potrebbe comunque andare in default. tra l'altro è una banca, quindi siamo anche sottoposti a rischio di bail-in. Vediamo se qui lo viene... Ah sì, viene detto, infatti, scusate, non l'avevo visto, era l'immagine successiva. E il rischio connesso all'inflazione, ovviamente il rischio di non avere praticamente un rendimento reale o comunque di averlo negativo. E il rischio di liquidità. Ne mettono tanti di rischi, sono bravi perché sono molto completi. Il rischio di liquidità, ossia che sia poco scambiato l'obbligazione sul mercato e quindi con tutto ciò che ne consegue. E basta poi. Il rischio dell'uscita anticipata dell'investimento... Cioè, se vendi prima della scadenza potresti perdere. In sostanza è questo. Ok? Il KID, bene o male, ci riporta un po' le caratteristiche che abbiamo già visto. Quindi non sto a ripetermi. Vi dico, l'unica cosa che mi ha un po' insospettito era il paragrafo costi. Paragrafo costi. A parte che la tabellina qua, che prevede un po' l'andamento degli scenari, secondo me è da ripensare. Siccome è sbagliata, però. Se il prodotto è richiamato alla prima data possibile, al 5 agosto 2024, noi abbiamo un'incidenza anona dei costi del 2,6%. Ora, questo è da vedere perché mi sembra un pochino strano. Un 2,6% mi sembra tantissimo. Un costo d'ingresso del 2,4% non so quando viene pagato. E tra l'altro, riporta anche qui, stranamente, se l'uscita viene alla scadenza... Ah, ok. Quindi c'è un costo d'ingresso del 2,4% e addirittura un costo di uscita. C'è un impatto di questi costi ogni anno dello 0,2%. Secondo me questi costi sono quei costi che i clienti di Società Generale hanno pagato quando il prodotto è stato in collocamento. Perché mi pare strano che un prodotto di risparmio amministrato abbia questi costi. Comunque, come ho detto prima, mi riservo di approfondire e se viene confermato che sono questi costi, lo segnalerò. Secondo me non vengono pagati se il prodotto viene acquistato sul mercato. Ok? Io, come sempre... Ah, non ho neanche detto ovviamente, questi non sono consigli di investimento. A me piace dare una mia opinione sugli strumenti di investimento che sono portati alla mia attenzione. Quindi vediamo i vantaggi, gli svantaggi, i rischi, quelli che sono i rischi e le possibili occasioni. Vediamo i costi coinvolti. Poi invito ognuno di voi a fare le opportune valutazioni, le opportune ricerche. Questo comunque è un prodotto un pochino più strutturato rispetto a una normale obbligazione. Quindi, ovviamente, studiatevelo e fate una scelta con coscienza. Il mio giudizio su uno strumento come questo è un giudizio positivo. È un'opzione in più che abbiamo per investire nel panorama obbligazionario con un rating ottimo e un buon rendimento. Anche se non sono amante delle cedole differite e non sono amante del rendimento semplice, come chiunque di voi credo. Io vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo che potete farmi qualsiasi domanda e anche dirmi cosa ne pensate scrivendolo qui sotto nei commenti. Noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.